Ma le più importanti innanzitutto uno spirito di squadra importante con chi era in campo con chi era fuori. Proprio tutti nella consapevolezza che era una partita importante per cercare di svoltare, di darci morale e fiducia. C'era una ricorrenza, anche questo non l'ho conosciuto il dottore Doschi, ma c'era una partecipazione anche emotiva in parte di questo. Poi arrivando al campo, che è la cosa che lei mi chiede, ho visto una squadra che fa quello che vogliamo provare a fare, che delle volte ci riesce bene oggi e altre volte un po' meno bene le qualche partita che abbiamo fatto. Di essere una squadra propositiva, una squadra offensiva, una squadra che gioca a calcio e che cerca di aggredire la squadra avversaria sulla metà campo. Questo lo si fa, lo era nei concetti della partita precedente, l'abbiamo visto a sprazzi in qualche momento, lo era oggi e lo si è visto con una buona continuità. Soprattutto proprio l'approccio la gara, i primi 25-30 minuti sono stati fatti veramente molto bene. Quindi le cose viste sono state tante, vi ragazzi tutti hanno dato risposte positive. Abbiamo provato alcune situazioni nuove che magari voi non siete a conoscenza, esempio Azi che ha risposto in maniera straordinaria. Un esterno, ma non basso, non l'ha mai fatto in carriera, si è fatto un esterno alto del 4-3-3 e di un 4-4-2. Prevalentemente mosti come interno di sinistra, che è la prima volta che giocava. Sono state anche queste risposte positive. Questo significa una cosa importante per l'allenatore che questi giocatori che hanno giocato un po' meno in questa primissima, perché non dimentichiamoci, siamo a tre partite di campionato. Si impegnano, sanno cosa fare e si sono fatti trovare pronti. Se non avessero una base tecnico-tattica, se non avessero le motivazioni di stare in un gruppo appena appena superficiali, magari così bene non avrebbero fatto. Grazie a tutti.